Eccoci pronti per un altro appuntamento in diretta prima del telegiornale delle 13 e 20, siamo in compagnia della dottoressa Maria Teresa Squarcina che è la Presidente dell'Associazione dei Banfil e che ringrazio per essere venuta nei nostri studi. Come di solito grazie a voi. Parliamo con la Presidente dell'Associazione dei Banfil di un'iniziativa che è stata illustrata ieri e che fa parte però di una serie di iniziative che contribuiranno e che già contribuiscono in alcuni casi, come vedete, a rendere alcuni luoghi, alcune zone anche se non di Trieste comunque, per esempio, Muggia è una città dementia friendly, io l'ho scritto in inglese perché purtroppo questa è la dicitura internazionale. Intanto allora professoressa, di che cosa parliamo quando parliamo di luoghi di realtà dementia friendly? Parliamo di luoghi che fanno parte della vita sociale di ognuno di noi, molto spesso una parte importante e che nel momento in cui a molti, moltissimi capita di incontrare questa malattia tremenda che è l'Alzheimer ma anche tante forme di demenza diventano spesso dei luoghi difficili da affrontare se non ostili. Quindi il progetto delle, lo dico in italiano, comunità amiche della demenza che è un progetto collegato ad Alzheimer Italia e Alzheimer Europa e si sta avviando in molti paesi, è un progetto che punta a dare gli strumenti a tutte le componenti sociali per saper accogliere, saper includere questi malati. A Trieste abbiamo cominciato circa due anni fa a partire dal comune di Muggia, non perché ci fossero particolari motivi se non il fatto di avere la dimensione di un piccolo paese. Mi perdoni se la interrompo Presidente, posso capire poi dopo, lei ce lo spiegherà, che cosa significa il concetto declinato per quanto riguarda una catena di supermercati, dei negozi eccetera, come lo si declina in una realtà comunque più ampia che quella di una cittadina, che è quella di un paese? Sicuramente è molto più difficile, infatti stiamo affrontando la città Trieste attraverso pezzetti. Ah ho capito. Il supermercato è un luogo in cui le persone anziane soprattutto vanno anche come momento di incontro, oltre che di necessità, di motivazione a uscire di casa, anche di incontro con altre persone e quindi abbiamo pensato appunto di andare a toccare innanzitutto questa realtà. abbiamo trovato l'interesse da parte della Coop Alleanza 3.0 che ha visto in questo sia l'occasione per esplicare quella che è anche la funzione di una cooperativa, che è quella di essere particolarmente radicata nelle esigenze sociali, sia come occasione anche per rendere più capaci i suoi dipendenti e più gentili, ci piace usare questa parola, forse perché gentilezza è una parola quasi caduta in disuso, più gentili verso i clienti del supermercato. E quindi abbiamo affrontato questo percorso con a Trieste di dipendenti a contatto con la clientela, ce ne sono 88 e 88 persone hanno avuto da noi questa formazione, purtroppo abbiamo dovuto farla a distanza perché siamo finiti in mezzo alla pandemia, ma vorremmo arrivare a portare avanti un discorso chiaramente in presenza. Ci sono state alcune ore di formazione sia sulla malattia che su come affrontare vari momenti magari più critici, più difficili ad affrontarli concretamente, sia poi in un momento di condivisione di quella che è stata questa esperienza e di quello che è l'incontro tra le cassiere soprattutto che è il momento clou della spesa. E quindi è un primo passo, vicino a questo poi c'è un percorso che dovrebbe portare a rendere anche l'ambiente fisico proprio, logistico. E questo è anche interessante perché immagino sia qualcosa che ha a che fare con la disposizione in questo caso delle merci, anche con i colori probabilmente forse. Esatto, mettendoci nei panni di quelle che sono le difficoltà di una persona che ha problematiche legate al decadimento cognitivo e all'Alzheimer in particolare, gli eccessivi stimoli sonori, visivi di oggetti intorno chiaramente aumentano questo disorientamento. e quindi si tratta di adattare fin dove è possibile chiaramente anche la realtà fisica proprio a queste esigenze con l'obiettivo di rendere meno disturbante e meno faticoso l'andare a fare la spesa. Unitamente a questo anche il fatto per esempio di dedicare in alcune fasce orarie alcune casse a un incontro più lento, cioè di superare quello che è un momento che è fastidioso forse un po' per tutti, appunto la fila, svuota il carrello, metti la roba, poi metti nella borsa, tira fuori i soldi con qualcuno dietro che magari sbuffa perché ha fretta perché deve andare. Se già per noi questo momento non è che mette in crisi o che distrugge, però è fastidioso per una persona per cui queste difficoltà sono molto aumentate diventa chiaramente pesante. E quindi questi sono vari momenti che vorremmo affrontare insieme ai dirigenti. Posso chiedere, Presidente, che tipo di suggerimenti, mettiamola così, che avete dato alle persone che avete formato, che magari potrebbe essere qualcosa che vale per tutti, che magari anche noi potremmo mettere in atto, una cosa anche magari molto semplice della quale potremmo persino non renderci conto. Il fatto fondamentalmente è di non dare per scontato che è tutto facile, quindi non fare fretta, dare il tempo alla persona di prendere le misure, di contare i soldi, magari dare una mano, magari anche senza farlo in maniera troppo evidente, rassicurare, tranquillizzare. Quindi una serie di piccolissime cose che, torno a dire, aiutano la persona ad affrontare le difficoltà in quel momento. Perché anche avere a che fare con il denaro, immagino che non sia semplice fare, che so, calcoli. Io non ho mai capito, non ho mai chiesto, forse sappiamo benissimo che quando parliamo di determinate malattie, ognuno è uguale a se stesso, ma per esempio immagino che si perdano anche il contatto, mettiamolo così, con i numeri, con queste cose, oppure no. Io non ho mai chiesto a mio papà, non ho mai capito se mio padre in malattia avesse contezza dei numeri, eccetera. Ma purtroppo è una delle capacità che si perdono. Addirittura, ho capito. Cioè, di fargli conto si impara e purtroppo è una cosa che poi scompare. Allora, chiaramente stiamo parlando, allora, da un lato di persone che ancora riescono ad avere un'attività, una certa autonomia e quindi, tra l'altro, in qualche modo c'è una ricaduta anche su tante persone che non è che hanno una malattia di tipo cognitivo, ma semplicemente persone molto anziane che spesso appunto sono a fare la spesa e quindi c'è un rallentamento e in questo correre, in cui siamo spesso costretti, può mandare in crisi ancora di più. Laddove invece ci sono magari persone in una condizione più grave c'è il fatto che spesso vengono accompagnati e quindi perché possano essere tranquilli e sereni a fare questa esperienza pur con un accompagnamento valgono un po' le stesse indicazioni. E senta, Presidente, uscendo un attimo da questo discorso, tanto ricordiamo che l'associazione The Banfield sta vicino alle famiglie delle persone che hanno problemi cognitive, ma l'associazione di per sé non è una casa di riposo, è una struttura diversa. Vedo sempre di più che si sta, mettiamola così, cominciando a ragionare quando si trattano questo tipo di problemi, si sta incominciando a ragionare verso una maggiore e possibilmente una migliore assistenza a casa delle persone affette da questo tipo di problemi. Dal vostro osservatorio, perché in questo caso il vostro è veramente un osservatorio privilegiato, come usiamo dire noi giornalisti, dal vostro osservatorio state già percependo che qualcosa sta cambiando e ancora in fase di discussione, di preparazione, che momento è? È un momento in cui qualcosa può cambiare? È un momento in cui si può cambiare perché il pensiero c'è, cominciano ad esserci anche degli strumenti, anche se siamo appena all'inizio, a livello di programmazione regionale, a livello di PNRR, sia sull'invecchiamento attivo, sia sulla malattia di Alzheimer, che pongono nella giusta collocazione l'importanza del restare a domicilio, sia per la dignità delle persone, sia per i costi e quindi su tutte le attività che poi in qualche modo riescono a prolungare l'autonomia della persona. Il tutto senza negare che ci può essere una fase o determinate situazioni in cui purtroppo non si può rinunciare ad un ricovero. In questo momento anche a livello di regione è in piedi un tavolo tecnico che deve definire il piano regionale per le demenze, quindi a definire quale sia il percorso ottimale dalla diagnosi al sostegno fino all'ultimo periodo di vita per accompagnare i malati di demenza. Noi come associazione ci siamo impegnati proprio su questo versante, da un lato promuovere delle politiche sanitarie che vadano in questa direzione, rendere capace e inclusiva la società in cui vivono queste persone e far sì che i familiari e chi è a fianco di questi malati possano avere gli strumenti e la forza necessaria per fare il loro compito. Abbiamo ancora un paio di minuti, le prossime iniziative, i prossimi interventi, sempre che riguardano l'operazione, chiamiamola così, demenzia friendly, che cosa riguarderanno? In questo momento stiamo ampliando l'intervento a Muggia, estendendo tutto questo discorso che abbiamo fatto finora alle farmacie e anche questo è un programma nazionale di Alzheimer Italia, quindi sulla formazione dei dipendenti delle farmacie per saper gestire le situazioni, con la polizia locale di Muggia e cercheremo adesso di capire se avviarci ad aprire un discorso anche con i giovani all'interno delle scuole, Covid permettendo. Casa Viola? Casa Viola continua con i suoi corsi, ricordo la Caregiver Academy che è appunto un percorso formativo per i familiari e per gli assistenti familiari, tra parentesi, badanti, continuano i corsi, continuano le attività per i nostri familiari cercando di dare il massimo di aiuto che possiamo. Chi volesse conoscere Casa Viola, chi avesse anche poi bisogno di scambiare, perché poi Casa Viola ha anche questa funzione, cioè di mettere in contatto le persone che si occupano di chi soffre di queste malattie, viene in via Filzi. Grazie a Filzi, 21-1, ogni giorno dalle 9 all'1, tranne il sabato, al telefono 040-362766. Grazie allora alla dottoressa Maria Teresa Squarcina che è la Presidente dell'Associazione De Banfield, buon lavoro davvero, adesso noi ci fermiamo per la consueta pubblicità, poi proseguiamo con un telegiornale delle 13 e 20 particolarmente ricco, durante il quale tra l'altro parleremo ancora della questione collegata alla Campinovia e anche c'è la conferma della presenza del Presidente della Repubblica fra qualche settimana, credo fra tre settimane se non calcolo male, o forse due, all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trieste. Dopo la pubblicità ci vediamo con il telegiornale, grazie ancora alla Presidente dell'Associazione De Banfield. Grazie a voi. Buongiorno telespettatori di Telequattro e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Scommetto un supermercato che se facciamo il referendum sulla Campinovia lo vinciamo. Così ieri sera a Ring il Sindaco di Trieste Roberto Di Piazza sul progetto del collegamento Mare Carso. E anche se dovessimo fare il referendum, oggi mi gioco un supermercatino contro che vinciamo. Ah sì? Mi sicuro? Contro un caffè. Ma sì, contro un caffè. Oggi sono stato attaccato perché non ho fatto, ho pensato ancora alla commissione per l'esame del referendum. Mamma mia, non dormirò stanotte. La commissione sarà fatta dal Tribunale, dalla Regione e dal Comune. Uno. Secondo, Ili a suo tempo, tanto per spiegare ai cittadini, passò la vendita del 50% di Accegas e lo mise nel suo programma elettorale. Vinse le elezioni e il referendum non si fece perché? Perché era dentro nel suo programma elettorale. La Campinovia è dentro nel mio programma elettorale. E' stato che ovviamente abbiamo vinto le elezioni e ovviamente è stato votato in Consiglio Comunale, per cui stiamo parlando di niente. Comunque ci sono delle osservazioni o preoccupazioni che ovviamente hanno i cittadini. Carico cittadini, scaricheremo quest'anno 450 mila, che probabilmente saranno 500 mila visitatori, turisti con le navi della cruciera. Nel 2023 abbiamo programmato 750 mila, ma in effetti sia Costa che MSC parlano di 900 mila. Provate a immaginare che scenderanno sul Porto Vecchio, troveranno questa Campinovia, vanno su a metà del Carso, arrivano su a Opicina e hai questo colpo d'occhio su quattro nazioni. E' un sistema di trasporto pubblico o è un mezzo di trasporto turistico? E' quello e quello, perché strada del Friuli non sopporta quel traffico, quello che succede di fa, non vedi che ogni momento un milione di qua abbiamo fatto le due dighe, ti ricordi che abbiamo fatto i parcheggi per togliere, strada del Friuli non sopporta, allora ci sarà un beneficio per l'ingresso da nord, è un beneficio turistico. E sempre ieri nel Sanotto di Ringhi è andato in scena il confronto sul progetto della Campinovia tra l'assessore a lavori pubblici Elisa Lodi, il dirigente comunale Giulio Bernetti e William Starz in rappresentanza del comitato No Ovovia. Fa parte di un webinar, cioè di quelle spiegazioni online, di quegli incontri online che dà la spiegazione di che cos'è il Pums, qui dentro c'è o no? No, questo è un riferimento all'Ovovia e questa è la vostra risposta, diciamo, è uno dei tanti elaborati del Pums che riporta evidentemente la Campinovia, si vede, perché il Pums è stato approvato dal Consiglio Comunale e quindi è il piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Trieste. Su questo guardatevi cosa il Comune ha risposto all'ARPA e cosa ha risposto alla direzione regionale che ha fatto le osservazioni. Quindi l'Ovovia è stata stracciata dal Pums. Io ricordo 48 milioni e mezzo di finanziamenti attraverso il Ministero per la realizzazione di questa opera e di nessun'altra opera, perché qui continuiamo a mettere confusione e a cittadinanza in tramvie che mi vanno da Piazza Foraggi fino a Miramare. Allora, il Ministero è stato chiaro, qui c'è stato un ampio dibattito anche a Tele4 sulla credibilità anche dell'amministrazione e dei suoi dirigenti, abbiamo dato prova che da parte del Ministero c'è l'assoluta conferma che o si fa questo finanziamento, quindi si attua quest'opera, oppure Trieste perde un'occasione di sviluppo per i nostri figli. Ma un trasporto pubblico che sia reale, che abbia una fermata ogni 400 metri, non una cosa che si prende aerea e ogni una è fermata dall'altra, sono un chilometro e 300 metri. Cioè che c'è troppo spazio? Allora, non faccio una linea, e Bernetti lo ha ripetuto più volte, soprattutto nei tre giorni di convegno in porto, ha detto che dovremmo restare un'altra linea a terra per supportare un trasporto. Allora, che senso ha tutto questo? Cioè, che senso ha l'ovovia sopra che ha fermata un po' più distanti e per poi fare ancora un trasporto pubblico sotto? Parliamo di Portovecchio ovviamente in questo caso. E' scritto anche nei punti, ma allora che senso ha una metropolitana quando a Londra abbiamo tutti i metri sopra l'autobus. Dopo il congelamento dello yacht del magnate russo Mellicenco nel bacino dell'arsenale San Marco di Trieste ad opera della Guardia di Finanza, si ragiona su come liberare l'infrastruttura di fincantieri dall'imbarcazione per non far pagare le conseguenze all'azienda, simbolo della cantieristica italiana. Congelamento amministrativo del bene. E questo è il termine tecnico con cui la Guardia di Finanza ha provveduto a bloccare lo sailing yacht A nell'arsenale San Marco di fincantieri, ritenuta la nave a vela più grande del mondo e di proprietà dell'oligarca russo Andrei Igorevich Melnicenco, inserito nella blacklist dell'Unione Europea che contiene i nomi di 40 magnati russi e di oltre 800 altri soggetti considerati sanzionabili perché ritenuti coinvolti a vario titolo nell'invasione dell'Ucraina decisa dal presidente Vladimir Putin. Il riferimento è all'incontro con il leader russo del 24 febbraio. Gli uomini della Guardia di Finanza ieri sera sono saliti a bordo della nave, rendendo poi operativa la misura prima che, anche dietro ordine dello stesso Magnate, fossero completati i lavori alla svelta per farla salpare. Fuga dello yacht quindi sventata. Melnicenco è il principale azionista del gruppo Eurochem che produce fertilizzanti e della società di energia del carbone SUEC vanto un patrimonio vicino ai 20 miliardi di dollari. Indipendentemente dall'effetto delle sanzioni e dall'azione delle fiamme gialle resta da capire quanto lo yacht resterà nel bacino considerato un patrimonio per fincantieri o se sarà possibile decidere uno spostamento da parte delle fiamme gialle per evitare danni a terzi. Trieste non è nuova a situazioni del genere, basti pensare alle navi ormeggiate dal lungo tempo in Porto Vecchio nel bacino del Molo Zero, conseguentemente ad azioni di sequestro giudiziario. E allo studio l'ipotesi di fare lo stesso con lo yacht A per evitare riverberi operativi su fincantieri. Per sfuggire all'arresto si è nascosto su uno dei pullman che trasportano i profughi ucraini. I militari però lo hanno individuato. Si tratta di un romeno che dovrà scontare quattro mesi di reclusione per furto aggravato. Sfruttava la presenza dei profughi ucraini sull'autobus in cui viaggiava nascondendosi tra loro per eludere i controlli dei militari. Dopo una latitanza durata 15 anni però è stato arrestato. Un cittadino romeno di 35 anni dovrà scontare quattro mesi di reclusione per un furto aggravato commesso a Firenze nel 2007. L'uomo, dedito al taccheggio, foderava le borse nelle quali conservava la merce rubata con della carta stagnola, creando un multistrato che riusciva a eludere le barriere antitaccheggio. All'interno delle borse, a seconda dell'occasione, finivano abiti lussuosi e vestiti delle migliori marche che poi il 35enne rivendeva i propri connazionali nei mercati neri dell'est Europa. Il suo continuo andirivieni gli aveva permesso di evitare la condanna e rimanere impunito. Nella sua ultima occasione, che invece gli è valsa l'arresto, il romeno, anziché utilizzare le borse per nascondere il bottino, ha usato come schermo la presenza dei profughi ucraini su uno dei tanti pullman che li trasportano lontano dalla guerra per nascondere se stesso dai controlli. Escamotage quest'ultimo che non ha funzionato. I carabinieri di Aurisina, impegnati nell'attività di controllo di retrovalico, insospettiti dall'atteggiamento del 35enne, hanno effettuato una verifica più approfondita. L'uomo è risultato latitante dal 2007, quando fu condannato per furto aggravato, dovrà scontare quattro mesi di reclusione. Ufficiale, il Presidente della Repubblica sarà a Trieste per l'inaugurazione dell'anno accademico. La cerimonia si terrà lunedì 28 marzo alle ore 11, per Sergio Mattarella ancora un momento di forte legame con la città. Il legame che si è instaurato da anni fra Trieste e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si arricchirà fra qualche settimana di un nuovo importante momento. Lunedì 28 marzo e ufficiale, la più alta carica dello Stato sarà presente alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Il cerimoniale di Piazzale Europa non prevede in questi casi un intervento da parte del Presidente della Repubblica, anche se non è escluso che Mattarella, come del resto fece alla Sissa nel 2019, anche allora in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, non possa pronunciare un seppur breve discorso. L'appuntamento inizierà alle ore 11, al momento restano da risolvere alcuni problemi legati soprattutto alla capienza cui sarà soggetta l'aula magna dell'università. Il rapporto fra Mattarella e la nostra città iniziò piuttosto in sordina, va detto, il 26 ottobre del 2016, con una breve presenza del Presidente della Repubblica all'alza bandiera che celebra il ritorno definitivo di Trieste all'Italia. Il 4 novembre di due anni dopo, la cerimonia solenne per la conclusione delle commemorazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, lo vide nuovamente in Piazza Unità. Alla Sissa venne il 19 novembre di tre anni fa, ma resterà certamente nella memoria collettiva della città il 13 luglio del 2020, l'omaggio di Mattarella e del Presidente sloveno Paco alla foiba di Basovizza e al monumento dei fucilati del Tigre. Quelle due mani che si incontrano e cercano di chiudere i conti col secolo breve rappresentano, piaccia o no, un futuro che la gente vuol continuare a sentire sempre più prossimo. In quell'occasione fra l'altro venne sancito il passaggio del Narondidom, sede di scuole interpreti, alle comunità slovene e non è escluso che la conclusione di questo percorso abbia costruito il rapporto fra il Presidente della Repubblica e l'Ateneo Triestino. Ora in collegamento con la sala operativa della Polizia Locale c'è per noi l'Ispettore Monica De Mola che ringrazio e saluto. Che cosa ci può raccontare Ispettore? Buongiorno a tutti, la situazione è abbastanza tranquilla su tutta la rete cittadina sia per la giornata odierna che per la giornata di domani. Ci sono delle gare di corsa campestre ma queste non dovrebbero influire a parte qualche attraversamento sul Carso dove saremo presenti per bloccare la viabilità momentaneamente. Quello che invece mi preme ricordare ai telespettatori è che da lunedì si farà l'asfaltatura di via Fabio Severo nel tratto compreso tra Piazzale Europa e via Quinto Baieno. I divieti sono validi per tutto il giorno in questo tratto di strada, sono 620 metri circa tra Baieno e Piazzale Europa e l'asfaltatura verrà nelle ore serali dalle 20 a seguire per circa 15 giorni. Raccomandiamo, visto l'alto numero di case che ci sono lì, di prestare attenzione a dove si è messa la macchina perché dovremo cominciare con le rimozioni già la mattina eventualmente. Quindi mi raccomando andare a vedere l'auto dove è stata parcheggiata. Io penso dovrebbe essere liscio. Ok, grazie Ispettore, buona giornata e buon lavoro. Il 31 marzo termina lo stato di emergenza conseguente alla pandemia. Il direttore generale della Confartigianato Triestina Enrico Eva ha ribadito ai nostri microfoni un duro appello. Dopo quella data basta Green Pass sul posto di lavoro. Riascoltiamolo. Il 31 marzo finisce lo stato di emergenza. Riteniamo che dal 31 marzo deve essere sospesa ogni gestione del Green Pass. Come scada lo stato di emergenza? Conseguentemente siamo assolutamente disponibili a ragionare all'utilizzo delle mascherine in ambienti confinati, in ambienti chiusi, ma proseguire con una gestione del Green Pass che tra l'altro ha visto oggi l'idea del sottosegretario al lavoro sotto i 50 anni no, lasciamo libri per venire al lavoro, sopra i 50 anni invece sì. Non dobbiamo inserire alcun elemento destabilizzante in un momento internazionale che è assolutamente già destabilizzato. Quindi l'Italia termina al 31 marzo lo stato di emergenza e conseguentemente e onestamente deve terminare anche la gestione collaterale del Green Pass perché altrimenti le imprese nostre mancano fuori. Forza Lavoro c'è la piccola impresa, è sprovvista di Forza Lavoro e in questo momento non ce lo possiamo permettere il lusso di tenere a casa i lavoratori che hanno fatto, ma non torniamo a discutere, scelte diverse. Si è tenuto ieri sera all'Hotel Savoia il convegno sulla sovranità energetica promosso da Fratelli d'Italia, ospite della serata, lo scrittore Francesco Giubilei che ha presentato il suo libro. Presentato all'Hotel Savoia il libro di Francesco Giubilei, Conservare la natura perché l'ambiente è un tema caro alla destra e ai conservatori. L'evento risiede nella cornice del convegno sovranità energetica e l'ambiente, analizzato in chiave politica parlando della destra. Al centro i temi della sostenibilità e dell'energia, elementi chiave del nostro presente anche alla luce della crisi energetica alimentata ancora di più dalla guerra in corso in Ucraina. Durante l'evento lo scrittore Francesco Giubilei ha dialogato sul palco con l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energie e sviluppo sostenibile Fabio Scocci Marro. I tragici eventi delle ultime settimane pongono la necessità di una sovranità energetica italiana. Occorre da qua ai prossimi anni diversificare quelli che sono i fornitori, aumentare l'estrazione di gas italiano, costruire un nuovo gasdotto che è l'Est Med e al tempo stesso aumentare quelli che sono i gas indicatori. All'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia è stata presentata invece l'iniziativa I raggi della solidarietà pedalare per vincere, una raccolta di fondi che permetterà al team senologico del nosocomio goriziano di acquistare un macchinario di ultima generazione per la prevenzione del tumore al seno. Non c'è solo il Covid ma c'è anche un mondo che chiede salute, un mondo che chiede prevenzione e che continua nonostante la situazione Covid e anche la situazione attuale con l'emergenza ucraina. Presentato all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia il progetto I raggi della solidarietà pedalare per vincere, promosso dai 10 comuni appartenenti al Patto del Coglio insieme al comune di Gorizia. Grazie alla promozione di una serie di eventi l'intento è stato quello di fornire un contributo al sostegno del team senologico dell'ospedale con una raccolta fondi. Una serie di eventi culturali, musicali, enogastronomici, sportivi anche a seguito del Giro d'Italia femminile e assieme a questi eventi c'è stata un inizio di colletta di donazioni su un conto corrente dedicato che ha portato a oggi un importo pari a 13 mila Euro. Questi 13 mila Euro sono stati destinati al team multifunzionale senologico dell'ospedale di Gorizia, un fondo in denaro che noi utilizzeremo per acquistare un'apparecchiatura che servirà all'interno del percorso diagnostico-terapeutico delle donne con problematiche al cancro alla mammella. Uno strumento che ci aiuta ad aumentare la precisione nella localizzazione dei tumori della mammella e più precisamente in quella parte di tumori non palpabili, cioè molto piccoli, che ormai anche grazie al programma di screening sono diventati il 70% quasi del totale, ribaltando un po' la situazione che avevamo dieci anni fa quando invece i tumori non palpabili rappresentavano solamente un 30%. Chiudiamo con il meteo, vediamo solo le previsioni per domani, cielo in genere sereno su tutta la regione, ma di primo mattino sarà possibile nuvolosità residua sui monti, specie verso il cadore. Sulla costa soffierà bora moderata, in giornata venti di brezza ovunque, temperature ancora invernali. Ci vediamo alle 19.30 con il telegiornale della sera. Buon pomeriggio, a più tardi. Grazie a tutti.